Ora è più compito, mi rendrò io curato bene, saremo insieme, mi ha raccontato che sarebbe stata solo mia, noi ci apparteniamo, non dire queste cose, so che non le pensi, sapevo che non avresti avuto la forza, il momento è ora, no, non credo che faccia il tempo da arrivare, ci spenderemo insieme, non si torna indietro, non avere ancora, se quasi nel buio a lungo trovi sempre qualcosa.